Essere capitano di questa squadra per me è un onore, perché avere un gruppo di ragazze intelligenti sul campo e un bel gruppo forte, coeso, sia in campo che fuori, fa solo che piacere. Quindi noi siamo qui perché vogliamo dimostrare prima di tutto a noi stesse, a tutto lo staff, a tutto il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi, dimostrare quanto valiamo. Quindi giocarci questo torneo al massimo delle possibilità. Quando è arrivato il mister qualche anno fa da noi ha portato sicuramente una ventata d'aria molto positiva, perché ha portato tutta la sua esperienza, ha portato tutta la sua conoscenza, ci ha fatto crescere tanto a livello sul campo sicuramente, ma tanto anche di testa e di mentalità, che forse questo ci mancava. Grazie.